Ciao Ma che palazzo è lì? Sì, sì, su Youtube vanno a scelare Il nome 10 Beh, vengono a Ciccioli Ciccioli, Ciccioli Manuel Vi parlai Vi parlai 11 prof Dov'è? Prof? Undici Ciao Lalla Ciao Maffu Si ritorce contro voi No, sono 11 Che ha detto Maria, grazie Sei grande Ti gassi Ciao Maffu Ma il primo piano dell'orecchio di Maffu Grazie Lui ti dai cazzati Il quadro è bello Il quadro è bello L'orecchio di Maffu è interessante Ovvio Frisa un saluto Ciao Che uomo di merda Ciao Maffu Ciao Dai, siete benissimo Gannone Che? Che uomo di merda Abnormi Che uomo di pubblico su Youtube E' che io Mi abbuffo Gli ho detto sbinnonna Ma non lo sai che mi ha detto sbinnonna Ma aveva detto che c'è Scusa signora guida oggi dove si va? Oggi questo è il paradiso all'improvviso Il paradiso all'improvviso Cioè? E' un paradiso di neve Lo posso inquadrare intanto? Bravo ci inquadra E ora andremo degli ebrei Sono tutti seppelliti sotto la neve Ah qua sotto Sì, bene Bruciati? No Il museo di quegli sporchi ebrei Bastardi Andiamo ripresa Camera E hanno ammazzato i 6 milioni E lo sapete quello che vi dico No Non ho fatto proprio male Direi Non ho fatto proprio male Però Può succedere Che sei Non da ballare Mi fa un cozzio Oh, rielochi però Così si spezza i lani No, vado in coglia No Ah Mi sono sbagliato una spalla Io mortarlo tutta questa situazione del cazzo Stai Un talamo Mamma L'ho preso dritto sulla scheda Oh ma la ce ne sono 10 Sicuro capito Guarda un pezzo di ghiaccio Ma che stai a fa? Mi sei insaccato il dito ieri sera Non sai che male per te Non lo riesco più a muovere Che cazzo riprende? È froscio No 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 No